Il viennese nella versione argentina, quindi il cosiddetto tango vals, giusto? Cristallino. E invece Franca e Cesare, Cesare e Franca faranno il vals e il viennese stile Vienna, proprio quello che ballate anche voi in sala caballo. Prego, numero 5. Sì? Via con la musica! Via con la musica! La musica è sicura, per farlo, la musica è sicura. E quando c'è farlo, mantenere la musica in casa. Procura lo delvide anche, mi viagra che distanza. Tutto lo conseguito, lo c'è andata. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.